Le cellule CAR-T rappresentano una forma di immunoterapia cellulare che sta cambiando il paradigma di trattamento di alcuni tipi di linfomi. Dall'ultimo congresso della società americana di amatologia, l'ASH, arriva una nuova importante conferma dell'efficacia e sicurezza di questa terapia anche nella pratica clinica e non solo nel settimo un po' ideale degli studi registrativi. A fornirla sono i dati aggiornati di una sorta di registro italiano sulle CAR-T, uno studio osservazionale istituito dalla società italiana ematologia, la SIE. Noi ce li facciamo raccontare dalla specialista che ha presentato i dati al convegno, la dottoressa Analisa Chiappella. Dottoressa, qual è l'informazione più importante che si può ricavare dai dati aggiornati del vostro studio sulle CAR-T presentato al congresso americano? Il dato sicuramente rilevante è che confermiamo ancora una volta che nella pratica clinica, in mano alle strutture ematologiche italiane accreditate per il trattamento con CAR-T, i risultati di Real Life sono assolutamente sovrapponibili ai risultati di efficacia presentati negli studi registrativi. Ma perché la società italiana di ematologia ha deciso di avviare questo studio osservazionale e come ve ne hai condotto? Quali sono gli obiettivi dello studio? L'obiettivo dello studio è stato voler fare proprio una fotografia dei dati italiani e di riuscire a valutare la fattibilità e l'efficacia, oltre che il profilo di tossicità, del trattamento delle CAR-T nella pratica clinica, nel trattamento dei linfomi recidivati e refrattari. Proprio per questo motivo la società italiana di ematologia ha disegnato questo studio prospettico e retrospettivo osservazionale coordinato dal professor Corradini dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che si pone come obiettivo di registrare tutti i pazienti con l'informa grandicellule o primitivo del mediastino recidivati e refrattari trattati in indicazione secondo le regole di alfa con Axissel o Tisacel. È stato poi fatto anche un emendamento per poter registrare i pazienti affetti dall'informa mantellare che stanno per ricevere l'indicazione al trattamento con Brexucel. Gli obiettivi dello studio sono quindi valutare non solo l'affettibilità e l'efficacia del trattamento ma valutarne anche l'efficacia clinica, le tossicità in termini di tossicità immunomediate come la sindrome da rilascio di citochine e la neurotossicità immunomediata e valutare anche come dei potenziali biomarcatori possano predire la risposta o la tossicità al trattamento e valutare con una raccolta di campioni biologici l'espansione delle CAR-T circolanti. Parliamo dunque di efficacia delle CAR-T. Che risultati avete ottenuto finora nella real life italiana? Nella casistica dei 191 pazienti infusi con CAR-T in Italia tra marzo 2019 giugno 2021 abbiamo ottenuto ottimi dati di efficacia se pensiamo che questi pazienti sono pazienti chemio-refrattari e che con la chemioterapia tradizionale non otterrebbero né risultati in termini di risposta e avrebbero una sopravvivenza globale assolutamente insoddisfacente non superiore ai 6 mesi. Nella nostra casistica prima di tutto abbiamo visto che su 208 pazienti per cui è stata fatta la linfocito aferesi, 191 pazienti hanno eseguito le CAR-T, quindi è stato un trattamento fattibile nella quasi totalità dei casi. Dei pazienti infusi abbiamo una risposta globale del 76% con ben il 44% dei pazienti in remissione completa PET negativa a 30 giorni dall'infusione. Questo dato di risposta si traduce poi in una sopravvivenza globale dell'80% a 6 mesi e con una sopravvivenza libera da progressione del 56% sempre a 6 mesi. Abbiamo inoltre condotto un'analisi anche se non è un confronto statisticamente significativo, non è un'analisi perfetta dal punto di vista statistico perché andiamo a confrontare due popolazioni non omogenee di pazienti, ma abbiamo visto come confrontando TISA-Cell con ARC-Cell non ci sono, non sono emersi differenze rilevanti tra i due prodotti cellulari. Ma che cosa avete riscontrato finora riguarda invece la sicurezza di questa terapia con cellule cartice? Che cosa emerge dall'esperienza maturata finora nei centri italiani? Sul dato della sicurezza oserei dire che abbiamo dei risultati addirittura migliori dei dati registrativi. Questo sicuramente perché sia con l'esperienza, ormai sono due anni che trattiamo pazienti con CAR-T, in Istituto Tumori abbiamo addirittura quasi raggiunto il centesimo paziente infuso con le CAR-T e la tossicità è stata, grazie anche ai nuovi piani di trattamento del rischio che ci hanno, che ci forniscono le società scientifiche internazionali e le ditte produttrici delle CAR-T, abbiamo visto che nella real life italiana la sindrome da rilascio di citochine di grado severo è del 5%, quindi assolutamente un fatto trascurabile e la neurotossicità immunomediata è inferiore al 10% con solo 8% dei pazienti che hanno una tossicità neurologica di grado severo. Tutte queste tossicità sono rientrate e non abbiamo osservato decessi dovuti a morte tossica correlata al trattamento, perché tutti i pazienti deceduti all'interno di questo programma purtroppo sono deceduti per causa del linfoma. Dottoressa, lei ci ha parlato di sindrome di citochine e di neurotossicità che erano le tossicità più temute all'inizio quando questa terapia è stata sviluppata, però all'ASH lei ha anche detto che in realtà le citopenie prolungate rappresentano un problema emergente. Qual è la situazione? Sì, queste sono le tosse, la sindrome da rilascio di citochine e la neurotossicità immunomediata sono le tossicità in acuto, quelle che andiamo a registrare durante il ricovero del paziente, quando viene ricoverato, quando in osservazione per il trattamento o comunque nel periodo successivo alla dimissione. Vediamo sempre più, ed è un dato anche che sta emergendo a livello internazionale, che esistono delle tossicità tardive, in particolare delle citopenie rilevanti, con, nella nostra casistica, ben il 33% dei pazienti ha sviluppato una citopenia rilevante addirittura a 90 giorni. Quindi vediamo dei pazienti che mantengono un'immunodepressione non solo dovuta alla patologia, al trattamento, ma anche a un abbassamento dei neutrofili e anche un'ipogamma globulinemia che si prolunga nel tempo, che si traduce poi anche in una maggior suscettibilità di fatti infettivi, sia virali che micotici. Infine, dottoressa, come proseguirà questo studio italiano sulle cartine? Lo studio proseguirà continuando a registrare, con l'obiettivo di registrare, tutti i pazienti trattati in Italia con affetti da linfoma. Abbiamo emendato lo studio e stiamo attivando tutti i centri che negli ultimi mesi hanno ottenuto l'accreditamento per il trattamento delle CRT e abbiamo incluso anche nuovi prodotti cellulari, quali Brexosel per il linfoma mantellare e sicuramente, non appena ci saranno altre indicazioni in altri tipi di linfomi, saremmo disponibili a emendare di nuovo il protocollo in modo da poter estendere questo studio a tutti i pazienti che possono ricevere questo trattamento innovativo cellulare.